A Nangrigento protestano i mercatisti di Piazzale Lamalfe della zona Esseneto in genere. Mancano i bagni pubblici. Allora, intanto dobbiamo dire una cosa. Questa fiera innanzitutto non è controllata da nessuno. Un vigile non si vede, non si vede nessuno. La gente qua non gira, la gente qua di sera, alle ore 9 già siamo chiusi, non ne scendono più persone. Intanto c'è una pulizia che non esiste, la parola pulizia è il comune, forse non sa cosa esiste. Non vediamo nessuno, l'immondizia ci resta qua, siamo completamente allo sbaraglio. Io volevo fare semplicemente una piccola precisazione, in quanto il comune giustamente vanta il suolo pubblico. Dice che noi dobbiamo pagare il suolo pubblico, ma per quale motivo? Se non possiamo soffrire di servizi. Perché come diceva la mia collega, bagni chimici sono assenti. Qui giustamente ci dobbiamo arrangiare, abbiamo soltanto un bar qui vicino, è giustamente anche quello che è un'attività commerciale, chiude i bagni e non sappiamo dove andare. Quindi poi giustamente si trovano in giro sacchetti di pipì perché la gente non se la può fare addosso. I segnali a terra della fiera stessa sono inesistenti, quindi che cosa succede? Che chiunque arriva monta, quindi ci sono abusivi e basta. Non sappiamo più che cosa significa fiera, questa ormai non è più una fiera, è diventato un abbandono a se stessi. Polizia, vigili urbani, le forze dell'ordine non si vedono mai. Qua non esistono, è come se veramente al comune non esiste la pulizia municipale. Acqua, servizi igienici, manca la pulizia, non so cos'altro aggiungere sinceramente. Sappiamo soltanto che ci troviamo in una situazione di degrado più totale. Una fiera così disagiata, solo a Grigento si può trovare, di tutto il mondo, solo a Grigento. Qua non c'è un orario per entrare, un orario per uscire, si entra, si esce, ora se ne sono andati, sabato e domenica ritornano, non c'è un controllo totale. Qui si paga 400 euro a ogni posto, nessun servizio. Qui bisogna disturbare a quelle dal bar per andare a fare l'igiene, ma non è che è una cosa normale questi usati 10 giorni qua, abbandonati da tutti. Cioè non c'è un bagno chimico? Non c'è niente, completamente non c'è niente. E quella della spazzatura non se la portano perché non sono autorizzati a portarsi la spazzatura. Ma che fai? Ma manco nelle... In Iran succedono queste cose. È il sindaco tranquillo, non so come si viveva a Grigento, non lo so.